...a San Marino. Bene, prima di parlare di questi temi voglio fare una breve storia di incontri con uomini altamente qualificati che hanno segnato un po' la mia storia. Il primo è avvenuto quando, leggendo nel 1979 un articolo sulle scienze sugli oggetti Apollo di cui nulla sapevo fino a quel momento e sarebbero oggetti di dimensioni da qualche metro a qualche decina di chilometro, si considera che ce ne siano almeno 2000 di diametro superiore al chilometro, oggetti che sono in parte il risultato dello spegnimento di una cometa, in parte hanno altre origini. Il primo fu scoperto nel 1937 ma l'importanza di questi oggetti fu realizzata molto dopo e pensando a un possibile impatto fra uno di questi oggetti e la Terra, e la stima allora era mediamente di 4 impatti ogni milione di anni con la Terra da parte di un oggetto di un chilometro di diametro, fu naturale ipotizzare che un impatto con un continente formando un cratere e emettendo molta polvere darebbe luogo ad un raffreddamento della Terra tale da poter attivare un'era glaciale, mentre un impatto su un oceano di potenza tale da fare toccare il fondo dell'oceano e squarciarlo facendo uscire il magma, cosa che non è difficile perché il fondo oceanico ha uno spessore mediamente di 3 chilometri e mezzo, mentre lo spessore della piattaforma continentale è sui 60-80 chilometri, il magma produrrebbe piogge e quindi scioglierebbe i ghiacci. Questa mia teoria sulla origine e fine della glaciazione da impatto ho scoperto recentemente in un libro pubblicato dalla Cambridge University Press che è stata la prima in assoluto proposta in campo geologico, anche se per l'impatto sui continenti nello stesso tempo veniva proposta da Hoyler. In questo ambito mi pareva naturale spiegare la fine di Atlantide come di un evento che terminando velocemente l'ultima glaciazione avrebbe anche terminato in buona parte le civiltà esistenti fra le quali quella di Atlantide. Scrisse un rapporto che fu mandato nelle varie biblioteche di Bergamo anche e credo lo abbia letto lui perché in un certo momento venne nell'ufficio per parlarne e quindi direi che è stata una delle cose più interessanti che ho fatto perché ovviamente in questo modo è stata stimolata una grande mente Bergamasqua e non solo. Lo mandai al premio Nobel della fisica Abdus Salam che era un Sufi che fu perseguitato dai Sunniti della Pakistan e aveva fondato il centro della fisica teoretica di Trieste dedicato a fisici del terzo mondo e aveva preso anche il Nobel in quanto era riuscito con Weinberg a unificare tre delle quattro forze fondamentali note, cioè l'elettromagnetica, la debole e la forte nucleare. L'unificazione con la gravitazionale è tuttora una questione aperta e non è detto che esistano altre forze. E lui mi scrisse una lettera che ho ancora in cui si dichiarava essenzialmente d'accordo e metteva quell'articolo, quel rapporto nella biblioteca perché lo leggessero altri. Poi organizzai un convegno a Bergamo su questi temi e ci fu la partecipazione fra gli altri del professor Pettinato, probabilmente ai vertici della sumerologia, traduttore anche della lingua e della città di Ebla, una persona accademica dedita completamente allo studio e non negli interlazzi, che infatti poi soffrì molto nel corso della sua vita per tutti e che dichiarò che la mia teoria era convincente. Avevo avuto la fortuna, ma non la potrei sfruttare allora nel 73, 74 e 76 di avere una stanza in una casa a Stanford che era esattamente di fianco a quella di Luigi Cavalli Sforza. Il grande statistico che divenne anche un genetista e che fu il primo a fare tramite analisi genetica a riuscire a ricavare un probabile movimento dell'Homo Sapiens dall'Africa attraverso la Palestina, verso l'Europa. E' un providente, mi sembra. E' un providente, eh? Sì, devo avere più di 90 anni perché io l'ho visto due anni fa ma comincio a perdere un po' con la memoria. Probabilmente a memoria migliore è sua figlia Violetta con cui studiava in Russia a Stanford che però si trova in Marocco perché ha sposato un arabo. E anche Cavalli Sforza venne nel convegno che io organizzai a Milano nel 2000 e qui Cavalli Sforza fece una conferenza assolutamente straordinaria. Ci furono altre conferenze da parte di Shock, da parte di Tormann, da parte di Ginenthal e altri. E quello fu un po' l'inizio di un'attività che poi mi portò a contattare Alfredo De Grazia che io incontrai nella sua casa di Princeton. mi portò dalla figlia di Velikovsky, Ruth, l'altra figlia era partita per Israele dove ha tradotto in ebraico le opere di Velikovsky e De Grazia chiese di organizzare la sua possibile venuta a Bergamo finanziata dalla fondazione americana. Infatti ero a Bergamo ma la burocrazia bergamasca universitaria fruttale che dopo due anni lui tolse il finanziamento che sarebbe stato di circa un milione di dollari nel giro di alcuni anni e si trasferì in Francia. Andai, lo vidi per l'ultima volta a luglio e tre giorni dopo un infarto e morì. E questo dopo aver avuto la regione d'honneur a febbraio e successivamente, così da morto, è la più alta onoreficenza americana nel campo militare a Fort Boanca che fu data sua moglie in quanto De Grazia era venuto la prima volta in Italia nel 44, 43-44 come generale di cavalleria, sbarcato in Sicilia, fu a Monte Cassino, salvò la vita a Moravia e poi divenne anche un membro del primo governo di De Grazia come ufficiale di liaison. De Grazia ha dato contributi molto vari dal settore politico, fu il primo al mondo per applicare la matematica alla politica, sociologico, psicologico e con un astronomo Milton anche introdusse delle idee che sarebbero tutte da sviluppare sugli effetti delle forze elettromagnetiche accanto a quelle gravitazionali nella formazione sia delle galassie che dei sistemi planetari. Tre anni fa fui al Monte Bego che si trova vicino a Tenda, il secondo luogo più importante d'Europa in termini di graffiti che sono tutti di un periodo estremamente breve attorno al 3000 a.C. con indicazioni quasi tutte di carattere astronomico. presentare la teoria che ho elaborato l'ora sulla Luna al convegno organizzato da Henri de Lomblet che è forse il più grande specialista del paleolitico al mondo e scopritore anche dei resti di un uomo che ha mezzo milione di anni trovati in Francia e la mia presentazione fu continuamente interrotta da lui che faceva domande non credendo certe cose e poi gli mandai i lavori e dopo tre mesi mi scrisse un'altra bellissima complimentandomi sui risultati che avevo ottenuto, sulla documentazione, sulle idee e dicendo anche lui come Abdu Salam che avrebbe posto i miei lavori nella biblioteca perché li leggessero tutti. Ed ora termino con riferimenti a due persone. Un Vladimir Damogov che incontrae un convegno organizzato alle Canarie e poi venne spesso a Bergamo e era un fisico e astronomo che ha sviluppato con dei russi un lavoro straordinario ovvero il lavoro relativo al fatto che i processi non lineari macroscopici sono quantizzati come i processi microscopici. Cioè gli stati in cui un sistema macroscopico modellizzato con il cosiddetto modello del pendolo non lineare è stabile sono quantizzati. Come corollario derivò la legge di Tizio Sbode che è quella legge che è stata osservata sia per il sistema solare che per i satelliti dei pianeti i quali pianeti si trovano a delle distanze che non sono arbitrarie ma soddisfano a una certa legge che era stata derivata già nel 700 in modo euristico. L'altro è Vladimir Ruzzov, un libro assolutamente meraviglioso sul problema della Tunguska. Nel 1908 esplose uno cesto in Siberia e ci sono stati fatti migliaia di articoli pubblicati e di libri tutti in russo, quindi sconosciuti in occidente, la conclusione è che non si sa ancora ed è forse dominante l'ipotesi che si tratti di un evento di tipo artificiale che abbia coinvolto delle astronomi. Bene, Ruzzov, io lo feci invitare a un convegno di De Grazia d'Atene, poi stavo organizzando la sua visita in Italia, a un certo momento mi arriva un'email, attendo un poco perché non sto bene, poi non ho saputo più nulla, infine ho saputo che tre mesi dopo era morto. Non so il motivo. Bene, dovrei in più dire che nello stesso tempo in cui leggevo, a maggio del 2010, il libro di Ruzzov, una mia amica soprano si trovava in Ucraina in una tournée e mi venne l'idea di scrivere un libretto d'opera, il cui titolo è La Tunguska Misteriosa, che in questo momento è stato completamente musicato da un compositore italiano e dovremmo quindi valutare dove eventualmente avere il debutto di questa opera. È un'opera in cui primo atto si svolge a Kazan, città scientifica, oltre che città interessante dal punto di vista antropologico e dove ho casualmente conosciuto degli accademici Reykjavik che facevano vedere le pubblicazioni che uscivano e sulle cui pubblicazioni ho pubblicato vari articoli usciti in russo e in inglese. Il secondo atto, il primo atto è essenzialmente legato all'acquisizione di un libro che parla delle antiche catastrofi, che è il libro che fu tradotto dal tedesco in inglese dalla moglie di De Grazia, è un libro scritto da un tale Adolf all'inizio dell'Ottocento, contiene informazioni poco note perché forse una volta la gente leggeva più facilmente l'attivo greco e acquisiva più facilmente certe informazioni. Poi c'è una parte romantica, il secondo è un dialogo fra due sciamane siveriane della zona in cui avviene l'esplosione, che è la zona del fiume Vodkamennaia-Tunguska, che vuol dire Tunguska-Petosa, una regione in cui, non so, su una superficie come la Lombardia ci stanno 200 persone di Tundra, dove finisce la pianura dell'Obb, che è ricchissima di petrolio e poi ci sono delle colline, si sale verso un altro piano e ci sono 7.000 km di Tundra. Bene, questi due sciamane sentono che sta per succedere qualche cosa e io avevo l'idea, a un certo momento, di prendere due arie di questo secondo atto, che è scritto sia in italiano che in russo che in inglese e di tradurle in Tunguso e farle cantare in Tunguso, sarebbe la prima volta, a meno che a Donizetti di solito cantino Tunguso, Donizetti, non perché mascono, ma sono simili? No, in Tunguso. Bene, e quindi mi rivolsi a Riccardo Bertani, che come voi tutti saprete conosce 150 lingue, ed è un pastore, non è un accademico, il quale a 15 anni si appassionò dell'Ussolo, imparò a due settimane e ogni giorno si alza le 5 di mattina e fino alle 10 studia. Ha pubblicato un centenario di dizionari di lingue del caucosa, della Siberia, della sua specializzazione, e scritto un migliaio di articoli, e ne mandai uno a Mario Linei, che è un accademico specialista delle lingue urofiniche, che ha detto che è una buona di alta qualità. Allora gli chiesi di tradurlo, ma lui mi scrisse, guarda, che poco dopo l'esplosione della Tunguska, ci fu una riunione di tutti gli sciamani siberiani, i quali scrissero un poema epico, una epica dedicata a questa esplosione, che io me l'ha mandata tradotta in italiano e quindi ho usato due aree da questa epica. Il terzo è una discussione sul futuro, terra, altri corpi, in cui parlano De Grazia, la moglie e una storica che era la figlia di Salvador de Madariaga. E la cosa avviene in Toscana. Questo è Uzzo, che si trova sullo sfondo, c'è Atene, andò a convegno cui io mancai. Ecco, allora io parlerò in questa lezione degli eventi Tunguska e Super Tunguska, volendo anche Mini Tunguska. Partiamo da quello classico. Il 30 giugno mattina del 1908 ci fu un'esplosione su questo fiume, che è un affluente dell'Oienisei. L'Oienisei è 5500 km, un fiume che nasce negli antropiani della Mongolia e poi sbocca nel mare artico. Sembra che nessuno sia morto, forse qualche animale, però la foresta fu distrutta sopra 2000 km2. Non c'è traccia di un cratere, l'esplosione deve essere avvenuta nell'atmosfera e ha comunque lasciato l'esplosione di un oggetto materiale che ha lasciato delle sferule di iridio, niobio e altri materiali. Qui ho il testo della domanda che stavamo facendo per la visita di Ruzzova, che era un confronto fra l'evento di Cegabinska del 2013 e di Tunguska del 1908 e altri eventi, dove c'è un riferimento notevole a un lavoro del 2008 di due americani, i quali hanno valutato che gli eventi più catastrofici sulla Terra in generale non sono da impatto, ma da esplosione nell'atmosfera. Per due motivi, uno che sono molto più frequenti, il secondo è che un'esplosione nell'atmosfera può dar luogo a effetti su un'area più vasta. Qualche tempo fa si era addirittura temuto che una forte esplosione nell'atmosfera potesse fare sbalzare una grande parte dell'atmosfera fuori della Terra imprimendogli velocità di fuga. E quindi la Terra dopo un po' avrebbe perso l'atmosfera, però i calcoli hanno fatto vedere che questo è abbastanza improbabile. Emilio, il limite di Roche ha qualche relazione con queste esplosioni? Beh, potrebbe certamente averlo, nel senso che il limite di Roche certamente può disintegrare l'oggetto. Ora, cosa si è osservato? Che i tronchi degli alberi della Tiger sotto l'esplosione sono ancora in piedi e sono ancora intatti, non sono marciti. Come se le radiazioni o altri fattori provenienti dall'esplosione avessero sterilizzato permanentemente il legno di questi. Inoltre c'è evidenza di mutazioni genetiche nelle formiche e nelle foglie delle conifore che hanno cambiato il numero degli aghi, che sono permanenti. Fatto molto curioso è che prima si sentì il suono dell'oggetto che stava arrivando e poi arrivò, ci fu l'esplosione. Questo significa che l'oggetto si muoveva a velocità subsonica. E questo è un fattore abbastanza curioso, in quanto generalmente oggetti celesti che entrano nell'atmosfera a velocità subsonica. Quindi prima appaiono e poi arrivò al suono. Inoltre fu fatta una raccolta di testimonianza da parte di coloro che erano ancora in vita e che avevano assistito all'evento da bambini, perché ormai gli anziani erano morti, e le cose che si vedono da bambini di solito si memorizzano meglio, si conservano più lungo, e è venuto fuori il fatto stranissimo di due oggetti che provenivano da due direzioni diverse e che si sono incrociati su quel punto. Ora, questo sarebbe più probabile se fossero due oggetti guidati da due giovani piloti della Lufthansa, di quali potrebbero sperimentare una forma di suicidio più fascinosa, piuttosto che due oggetti celesti, in cui hanno questione di probabilità, ovviamente, non le possibilità. Inoltre c'è l'evidenza che dopo l'esplosione qualche cosa continuò verso nord. L'oggetto non era grandissimo, sui 50 metri di diametro, l'esplosione a 8 km d'altezza, l'energia però sui 100 megatoni, quindi superiore a quella della bomba di idrogeno che Khrushchev fece esplodere in Siberia sulla penisola del Taimi. Quindi la domanda aperta che io trasmetto voi e appena avete la soluzione, fatemelo sapere, era un oggetto naturale, artificiale. Emilio, c'è un dato che i londinesi per diversi giorni leggevano il giornale a mezzanotte con la luce spenta in casa, a giorno, illuminata a giorno tutta l'area. Sì, sino a una distanza di migliaia di km, comprendendo, dunque, Londra era ad almeno 5.000 km di distanza, c'era una luce particolare, probabilmente polvere che rifletteva la luce del sole, eccetera, eccetera, che permetteva di legge del giornale. Lomba è che era giugno, era giugno Londra, però non era Scozia comunque. Qui è una zona dell'esplosione che si trova vicino a Tomsk. A Tomsk, curiosamente, quando c'è una, è uno dei due centri accademici principali dei tre della Russia, uno è Akademgaradok vicino a Norosibirsk, poi c'è Tomsk, che è già dall'Ottocento, e poi c'è Kazan, oltre agli altri. A Tomsk ci lavora una mia conoscente, che è una fisica, la quale studiò inizialmente da soprano, e studiò anche il pianoforte, e si chiama Maria Felicia, ma non malibra, ma lì è la Felicia dell'Aumentis. E ha una sorella fisica che è anche soprano. Questa è una delle zone con gli alberi che stanno ancora in piedi. Bene, torniamo indietro nel tempo. Salto, un probabile evento, su cui perciò poche informazioni, che riguarda la fine del Seicento, evento che devastò il Canada, soprattutto, portò il fiume San Lorenzo a cambiare sbocco nell'oceano Atlantico, e portò anche il terremoto molto forte. E di questo ne potrete leggere nel libro che uscirà prossimamente sui rapporti pre-colombiani fra l'America e gli altri continenti che sto curando. Bene, nel 1178, mese di giugno, curiosamente lo stesso mese nel 1108, tre studiosi di Canterbury si levano fuori, era una bella notte, c'era la Luna, e videro improvvisamente da un bordo della Luna uscire una fiammata. Poi videro la Luna tremare, servono a tremare, e cambiare di colore. Presso il polo nord lunare, che è la zona da cui fu vista uscire la fiamma, si trova il cratere Giordano Bruno, che sembra essere recente e da 22 km di diametro. Possibile causa, un impatto di asteroide. Però gli oggetti che impattano, molte volte, anche per effetto, come diceva lui, della forza del limite di Roche, dell'azione dei limiti di Roche, sono frammentati. Oppure l'impatto non li polverizza tutti, e si formano dei frammenti, e potrebbe essere che qualche frammento, passando tangenzialmente sul polo nord della Luna, sia finito sulla Terra. Non nella parte occidentale, perché non c'è l'evidenza, ma forse nella parte del Pacifico, dove io ho scoperto che verso quell'epoca, infatti, ci sono tracce, indicazioni di eventi di tipo catastrofico. Nella Nuova Zelanda ci sono i crateri Tafalui, non sono molto grandi comunque, e c'è la tradizione di un incendio che bruciò una parte delle foreste e uccise l'uccello Moa, che sarebbe quindi morto per una causa naturale speciale e non per l'eccesso di caccia. Poi c'è l'evidenza di una corrente nino molto forte lungo il Perù, queste correnti possono portare molte piogge, lungo la costa peruviana, che è generalmente desertica, con pochissime piogge, nella regione di Lambaye, che erano state costruite delle piramidi con base sugli 800 metri, che venneranno di terra, dissolte in buona parte da queste piogge. Poi abbiamo la possibile migrazione degli Astechi, perché gli Astechi incontrano Cortez, verso il 1500 e qualcosa, e erano arrivati da poco in questa città di Tenoce-Titlana, che si trovava, aveva forse 200.000 abitanti o di più, si trovava in un'isola in mezzo a un lago, il lago Texcoco, che si trovava a sua volta in una pianura circondata da montagne. C'è una tradizione che venissero dalla laguna per la zona di Astech-Titlana, che forse era stata colpita da uno tsunami, e loro se ne erano andati in un posto ben difeso dagli tsunami, quindi molto in alto e circondato da montagne e in più dentro un'isola. e probabilmente i loro sacrifici umani potrebbero essere stati motivati da un ricordo di quello che avevano subito. C'è evidenza che molte isole del Pacifico furono devastate, fra cui l'isola di Pasqua, dove si sarebbe salvata una piccola parte della popolazione antica, che era una popolazione di tipo aliano, forse, con delle orecchie molto lunghe, nelle quali si facevano dei buchi e mettevano degli amulenti, degli oggetti pesanti che allungavano le orecchie. Tradizione, uso, comune anche in India, ed era praticato anche da Buddha. questi lunghi orecchie. Quindi sarebbero arrivati poi delle popolazioni dalla Melanesia o Polinesia, che per un po' restavano soggette, erano popoli di bassa statura, mentre quelli precedenti erano di alta statura, poi si ribellarono e distrussero tutti gli abitanti, tranne uno solo che fu conservato per ricordo e per conservare il seme, più o meno come facevano, si faceva anche presso gli ebrei di qua di là, quando c'erano certe, come ha fatto Gerson nei confronti della tribù di Beniamino. E poi Gengis Kanna vide un segno nel cielo e nel 1978 Gengis Kanna era un ragazzo di 13 anni e gli shaman gli disse che quel segno indicava che lui sarebbe stato in futuro il padrone del mondo. Questa è la storia, l'ho letta, non nella storia segreta dei mongoli, ma in un testo che era stato tradotto da poco, di annali, di ricordi, di tradizioni mongoliche, che si trovava nella biblioteca del Roia Lontario di Usema a Toronto. Non si sa che tipo di segno... Ma probabilmente sarà stata una striscia luminosa, non lo so. Io in quel momento avevo un altro impegno, non lo so. Ecco, questo è il creatore Giordano Bruno. Recentemente il professor Cavalleri ha detto qual è stato il vero motivo per cui Giordano Bruno è stato condannato. Avete idea? Fu il Mocenico che lo consegnò alle truppe papaline. Giordano Bruno era un prete e confessava, poi fu tolto il diritto di confessare, ma lui continuò a confessare in Inghilterra passando le informazioni al re e portando all'eliminazione di molti cattolici. Che più o meno è quello che ha fatto Montini? Perché Montini ha passato a Stalin l'elenco dei preti di incognita in Russia. Quando Pio XII l'ha saputo, l'ha cacciatoria da Roma, dove era segretario di Stato, l'ha mandato come arcivestro e non cardinale a Milano. Ora, la Chiesa Cattolica ha avuto sempre, in quel periodo, un atteggiamento durissimo nei confronti della violazione del segreto del battesimo. Tant'è vero che a Tolosa Fermat, quello del famoso teorema di Fermat, oltre a essere un amante della botanica, un amante della matematica, era anche un giudice e un notaio e come giudice condannò una decina di preti alla decapitazione perché allungavano le mani sulle confessande, anche se dichiararono che l'avevano fatto per accertarsi esattamente della natura del peccato. Anna Maria, a giorno d'oggi succedono queste cose? Buono d'ansia. Ma si usa ancora la decapitazione? No, no, a giorno d'oggi. Di fortuna no. Ecco, qui ci sono, è cosa incredibile, l'uccello moa, è un gigante di 5 metri. C'è uno scheletro, che può essere un dinosauro, tu che sei l'esperto. Questo è un dinosauro, è vero. Però lui non è ali, come fai solo un uccello? Sa che muovo un uccello? Ma con un uccello lì? Ma è un uccello del Madagascar, originario. No, questo dovrebbe essere il moa. Quello del Madagascar era simile, anche lui era l'uccello gigante. Sì, era il moa. Qui avete, vedete, la regione a destra, queste piramidi, che sono, tutte hanno perso volume, per le piogge. Qui è una mappa cinquecentesca di Tenoce-Titlan. A sinistra ci sono le isole Hawaii, in cui dopo l'evento i re assunselo il titolo colui che ricorda il colore cambiante dalla luna. Mentre a destra c'è l'isola di Pasqua, dove c'è nella parte centrale, c'è un vulcano di una certa altezza, qualche centinaia di metri. Questo è Gengis Khan. Bene. Adesso torniamo indietro ad un evento che è ancora considerato di cause ignote. verso il 536, circa 3-4 anni, nella regione del Mediterraneo ci furono terremoti, si osservarono molte comete nel cielo e arrivò una peste che sterminò almeno metà della popolazione, molto più grave di quella della peste nera del 1300. Contemporaneamente in Cina, per vari anni, le coltivazioni fallirono per il freddo. La gente morì di fame e si dedicò al cannibalismo. Purtroppo in quelle condizioni anche cibarsi di esseri umani si negava prendere essere poco cicciosi e l'imperatore si suicidò. Allora, ci sono state proposte delle cause. Una è stata proposta da Keyes, un inglese, il quale ipotizzò, diede degli argomenti secondo i quali una volta Sumatra e Java non erano separate. Adesso c'è uno stretto che non è molto larico, che li separa, in mezzo al quale c'è Krakatoa, esplose Krakatoa. Secondo Keyes c'era un super vulcano che ebbe un'enorme esplosione con svuotamento della caldera, sprofondamento della caldera che separò le due isole. Altri hanno proposto un impatto, non ho idee su questo. Ma Alfred, se era Alfred Doyle, scrisse un famosissimo libro, This is from Space. Certo. Lui e Sacha andrava a Kramasinghe, erano convintissimi che venivano tutti dallo spazio. Certamente, difatti c'è l'evidenza negli storici bizantini dell'epoca, che io non ho ancora letto di sono, mi pare, Malalal, Zonara, eccetera. Recentemente mi sono letto Psello, che è interessante perché dice che uno degli imperatori bizantini mandò una flotta al di là delle colonne d'Ercole a cercare la terra al di là, che avevano delle frutte speciali, eccetera, eccetera. E poi ho letto di Cera di Coniata, che è terrificante, dove descrive quello che hanno fatto, i crociati che arrivano a Costantinopoli, fondono, c'erano Costantinopoli, delle gigantesche statue di bronzo, di epoca, di angustia e anche prima, e le fusero per fare oggetti, armi. Il Papa fuse la statua, il Colosso di Nerone, il Colosseo, di 30 metri dal 25, per farci le monete per pagare il riscatto ai normanni, salvò Roma fondendo la statua e ci fece tonnellate di monete, di bronzo e pagò il riscatto che gli chiedevano i normanni, lo pagò grazie a Nerone. E poi durante questa occupazione, che poi durò circa 50 anni, io all'inizio fu imperatore, era uno che veniva da Venezia, uno dei doge, non so se è Dandolo o Marco, se non ricordo, che morì a oltre 100 anni di età, fu portata via quasi sicuramente la Sindone e cosa interessante di cui si parla poco, qualche tempo prima era stata fatta scomparire la lettera di Gesù ad Abga, che veniva conservata nella chiesa di Santa Sofia, in un contenitore speciale. In più il Papa aveva dato un autorizzatore, aveva assicurato i crociati che qualunque peccato avessero fatto nel loro viaggio, sarebbe stato condonato una volta arrivati a Gerusalemme. Vabbè, la sua opinione ultima e definitiva sullo sindone. Se ne potrebbe parlare, ma non adesso. Allora, queste sono alcune ipotesi. Un momento, che volevo dire un'altra cosa. Recentemente, qualche 30 anni fa, è stato trovato in una biblioteca privata di Napoli, biblioteca Micinelle, un manoscritto del 1600, di una gesuita, padre Blas Valera, che era figlio di una principessa incaica e di uno dei conquistatori al seguito di Pizarro, il quale aveva scritto un libro che gli fu sequestrato perché parlava dell'atrocità degli spagnoli. E però, poi, e fu costretto a lasciare il Perù e andare in Spagna, prima di morire tornò in Perù e riuscì a scrivere un breve testo in cui dà la chiave di lettura dei Kipu e inoltre racconta questa storia riguardo l'origine degli Incas che mille anni prima, e quindi andiamo all'epoca della peste di Giustiniano, erano arrivati dei Tartari, cioè gente che veniva dalla Cina, dalla Siberia, e degli uomini vestiti di bianco e da Occidente. Probabilmente fuggivano da questo territorio devastati dalla carestia, si erano incontrati, si erano scontrati, avevano vinto i Tartari, però avevano mantenuto le donne dei bianchi e da loro discendevano gli Incas. Quindi c'è questa tradizione che potrebbe portare a questo fatto. Qui abbiamo l'isola di Krakatoa, quelle che vedete sono le parti sopravvissute all'esplosione, l'esplosione avvenne verso il 1883 e si sentì a migliaia di chilometri di distanza, ci fu uno tsunami che fece un 50.000 morti e si formarono isole di Pobice per tutto l'oceano indiano. Quando verso il 1930-20-30 furono esaminati i depositi, nell'esplosione si trovò che nel momento in cui la caldera sprofondò e quindi il materiale emesso interagì con le acque salate, la Pobice divenne rosso sangue. Per cui io ipotizzo che certe isole rosse abbiano questa origine e il nome Mar Rosso, dato all'intero cielo indiano, ossia la parte a est che ovest del genere dell'India, derivi da fenomeni di questo tipo dovuti ai vari vulcani che esistono nella zona. Ecco, qui vedete... Bene, per qualche parte... Questo è lo stresso fra Java e Sumatra, però se non vedo qui Cragatora, non importa. Qui è una delle parti di Cragatora che ancora... Bene, poi torniamo indietro. Dal 1500 a.C. andiamo adesso ad un evento scoperto recentemente, da pochi anni, in Baviera, verso il 300 a.C. c'è stata un'esplosione di tipo Tungusco, Super Tungusca, che avrebbe prodotto i molteplici laghi che ci sono nella zona, praticamente tra le Alpi e Monaco, che sono poco profondi, ha lasciato tracce di iridio, di obbio, eccetera, ha portato l'incendio delle foreste e questo territorio era abitato non tanto da Germani quanto da Celti, i quali migrarono prevalentemente verso la Galazia, verso l'Anatolia, la zona di Ancara, passando da Delphi, che era piena di oro, e saccheggiandola. Questa è la fine delle strutture che contengono l'oro, abbiamo poi, qui è la zona di uno di questi laghi, qui c'è un passaggio in Davide, nel secondo libro di Samuele, in uno dei canti di Davide, c'è un'affermazione che potrebbe riferirsi a un qualche vento, che al momento resta per me almeno del tutto indeterminato, tre vento della terra, un corpo dal cui naso esce il fuoco, il cielo che si divide, nube, nube, nere, scende l'oscurità, appaiono le visioni, il fondo del mare. Questo potrebbe essere anche riferito all'evento dell'esplosione di Tifone, di cui non parlerò oggi, esplosione che dà luogo al diluvio di Ogige, dove Ogige è uno strano nome, misterioso, la cui origine credo sia ancora sconosciuta, almeno stando a quanto mi ha detto il filologo greco, di lingua greca, Luigi Lenus, nessuno sa che cosa voglio dire Ogiges. Ora, io in mente Oggr è un gigante, Giges non lo so, magari Michele, andando a vedere fra le tue conoscenze del Coptico, o meno nell'odissea. Eh sì, ma l'origine qual è? Vabbè, lo risolveremo prima o poi. Bene, procedo però, c'è una parte su cui ho molto lavorato, ma mi limito a sorvolare essenzialmente, mi limito brevemente su queste immagini a dire qual è il risultato. Qui noi vediamo dal satellite il delta del Nilo, con la valle del Nilo, i Resinai, e poi una parte della costa piuttosto dell'Arabia, la quale scendendo ci porta verso la Mecca e poi l'altopiano dell'Asia e lo Yemeni, che sono piuttosto verdeggianti. Dunque, secondo, esiste un libro scritto da un segretario di Agostino Santo, che si chiama Paolo Rosio, titolo è Guerre contro i Pagani, in cui si fa vedere che se c'erano tante guerre all'epoca del cristianesimo che si diffondeva, perché secondo alcuni pagani non si pregavano più le divinità classiche, anche in epoca precedente c'erano state molte guerre e costragi, eccetera, eccetera, e c'è anche un discorso sopra quello che è avvenuto nell'Esodo, in cui lui dà una chiave di lettura dei fatti dell'Esodo che io ho, essenzialmente accettato, mentre normalmente è totalmente dimenticata. Paolo Rosio è ignorato da tutti quelli che se ne sono occupati quasi. Dunque, cosa vedete? Vedete il delta sulla parte orientale si trovava un grosso nucleo di ebrei, era il territorio di Goshen, erano impegnati a fare dei mattoni, io suppongo per costruire un muro per difesa contro le invasioni che c'erano state parecchie dei cavalieri turanici. Poi succede una serie di eventi che sono relazionabili con due oggetti celesti. Oggetti che in numero, la cui epica stando all'approccio di Vince va collocata a prima dell'esodo, a prima della fine dell'ottimo climatico, quindi verso il 1500 a.C. Questi oggetti sono citati da Omero in quanto a volte sono visibili prima dell'alba come due puntini luminosi e si chiamano lampo e fetonte. Quello che poi succede nella mia interpretazione è quanto segue. L'oggetto lampo sulla cui scomparsa il Grece non ne parla, no? Io non ho trovato nessun riferimento. Probabilmente esplode o impatta sull'Africa, sul deserto del Sahara dove ci sono vari cartieri da impatto. L'altro invece forse più grande continua a girare finché entrando nell'atmosfera comincia a disintegrarsi, passa, si muove su un andamento che lo porta più o meno dallo Yemen a passare sopra Aqaba e poi sopra la Grecia e poi sulla Germania del nord dove alla fine esplode sul fiume Elidano ed è l'oggetto noto come fetonte il luminoso. Il fiume Elidano non è il Po ma è il fiume Aider in quanto già i geografi latini avevano due ipotesi che fosse un fiume del nord diventa il Po quando popolazioni del nord scendono e danno a strutture geografiche del nuovo luogo i nomi delle vecchie è il fiume Aider il quale fiume in quel periodo si univa al fiume Schley costituendo una via d'acqua che permetteva l'accesso diretto dal mar del nord al baltico quindi evitando di fare 1500 o 2000 chilometri del giro dello Jutland risalendo lungo il mar del nord che è spesso molto tempestoso inoltre il fiume Aider ha un andamento zigzag che corrisponde a quello della costellazione Elidano non è una mia scoperta questa perché è dovuta al geografo tedesco Wirt che l'ha pubblicata su Migration and Diffusion bene l'esplosione di fetonte fa propagare radialmente l'aria a temperatura di almeno 1000 gradi e velocità inizialmente prossima a pure 1000 km propagandosi questo vento caldo diventa sempre meno freddo però in durata più maggiore inoltre l'esplosione è anche associata ad un terremoto che potrebbe essere quello descritto da Davide se non va derrato in un salmo in cui le montagne sono dette saltare come capretti terremoto che colpisce anche l'America del nord e molto probabilmente porta alla distabilizzazione degli idrati di metano che si trovano nel mondo in tre luoghi lungo le coste della Cina le coste del Pakistan e le coste sud degli Stati Uniti gli idrati di metano contengono forse 10.000 volte più metano che tutte le altre sorgenti è una fonte potenziale di metano ancora da sfruttare che non si sa come sfruttare così via quando si destabilizza l'idrato di metano abbiamo la separazione fra molecole di acqua di metano e quindi esce un gas che può spingere le acque dell'oceano in uno tsunami gigante e stando Stuart Harris c'è l'evidenza per quel periodo di uno tsunami che è entrato 2000 km negli Stati Uniti devastando quella che forse era la civiltà numero uno del mondo allora concentrata sull'Oahio e sul Tennessee civiltà che aveva costruito piramidi più grandi in volume della piramide di Cheope e che sfruttava le miniere d'oro del lago superiore esportando l'oro anche al di là dell'Atlantico bene nella regione mediterranea questo vento spinge a sud le acque del Mediterraneo le vedete là e queste acque invadono il delta e probabilmente nessuno sopravvive nel delta il che significa che il 99% della popolazione egizia viene sterminata i falchi le sabbie portate ricoprono anche i monumenti che c'erano allora secondo Velikovsky siamo alla fine del Medio Regno che è stato il periodo più splendido forse dell'epoca egizia di cui era stato pochissimo perché quel poco è stato devastato oppure si trova sotto un metro di sedimenti o leggendo un libro di pochi anni fa sugli tsunami mi concentrato sugli tsunami dell'oceano pacifico ho anche letto la nota che era stato accertato da poco che uno tsunami aveva coperto tutto il delta arrivando sino alle piramidi quindi la mia ipotesi sarebbe stata confermata poi sull'oceano sul Mar Rosso che voi vedete il vento soffia spingendo le acque sud il Mar Rosso è orientato esattamente nella direzione da cui arriva il vento se prendete un globo vedete questo orientamento queste acque si accumulano alla porta esterna in fondo al Mar Rosso dove c'è uno stretto che si chiama Bab el Mandel che vuol dire porta del pianto dell'alimentazione il ricordo degli effetti nella parte meridionale del Mar Rosso dove si affacciano le zone più piane dello Ieme che probabilmente sono state devastate ed è noto che per circa 400 anni lo Ieme non si costruì nulla fu devastato completamente bene andiamo a vedere Mosè stando a Cosma Indico Pleuste che ha scritto un libro di cosmografia cristiana di geografia cristiana e che prima di farsi monaco non so se era un monaco della Tebaide nella Tebaide non stavano tutti nelle caverne ce n'erano un migliaio circa che stavano che facevano gli stiliti cioè si costruiva si rizzava un palo sopra si metteva una piattaforma e il monaco stava lì in alto a pregare ogni tanto calava una cordicella e gli portavano da mangiare qualcosa eccetera quando Maometto II conquistò Costantinopoli Costantinopoli era praticamente vuota era un'immensa città con delle mura di Teodosio gigantesche doppie avevano 8 metri di spessore erano altre 15 metri più dove non erano rovinate e c'erano 30.000 abitanti niente l'esercito di Maometto aveva 300.000 soldati e in più aveva le bombarde costruite da ungheresi che erano cannoni che sparavano palle anche di bronzo ma palle anche di 80 cm di diametro avevano difetto questi bombardi che ogni tanto esplodevano loro e chi stava vicino di solito non passava la miglior vita però le bombarde hanno fatto la fine delle mura del medioevo e dell'antichità perché le mura venivano giù sotto i colpi delle bombarde bene a Costantinopoli c'erano ancora 30 stiliti che furono costretti a combattere non è che avessero il massimo della tecnica militare comunque venivano giù anche con i trabucchi forse che con le bombarde ah beh è stato un periodo di svolta tecnologica importante no erano si trabucchi queste specie di fionde gigantesche che scagliavano massi poi avevano delle strutture con l'uncino che prendevano l'uncino ma quelli con questi massi giganteschi che piombavano a velocità scagliate da centinaia di metri cioè il trabucco è un'arma devastante aveva una tecnologia che tutta gente che andava lì a pagamento a fare come il giorno d'oggi ad esempio per portare le navi dentro il corno d'oro il corno d'oro era chiuso da una catena gigantesca che Marometto non riuscì a tagliare e allora mise le navi sopra le trasportò le fece traienare la centinaia di vuoi sopra un appoggio con delle ruote va bene allora in fondo voi vedete una struttura che la vedete una Erasmo Ahmad una struttura che attualmente si chiama Erasmo Ahmad vuol dire testa di Moometto normalmente questi nomi si davano a strutture sacre questo è il balsefona biblico nella mia interpretazione che vuol dire ci sono i tre nomi classici che sono signore dei naviganti che è perfettamente accettabile in quanto lì arrivavano dall'India navigatori che si chiamavano avevano il nome generale di Pani che vuol dire quelli dell'acqua ma avevano anche il nome specifico di Tirani che vuol dire quelli forti e hanno lasciato il loro nome le isole che vedete fra il Sinai e l'Arabia si chiamano isole di Tiran e poi questo Tiran lo trovate in Tiro Tirinto Tarto Altura che si trova lì eccetera l'altro nome è signore del nord e l'altro signore delle mosche non so se ce ne siano altri potrebbe essere beh la mia opinione è che questo fosse il dio dei naviganti indiani che venivano dall'India meridionale quindi era il dio Shiva il quale era dio dei naviganti certamente era dio del nord signore del nord perché il trono di Shiva è il monte Kailash sulla cui cima Shiva al suo trono dove sta di solito con Parvati moglie numero uno però c'è anche moglie numero due tre quattro non so e poi signore delle mosche nome interessantissimo perché sicuramente dei naviganti egizi o greci capitavano nell'India e visitavano i templi in particolare il tempio di Shiva nell'isola di Elefanta che è vicino a Bombay che è davanti a Bombay ora come sono le statue delle divinità indiane sono statue simboliche tre teste e quattro braccia Kali ha una tutta delle collane di testi e poi c'è Durga che cammina tenendo per i capelli la propria testa che è tagliata e così tutte statue che hanno dei significati esoterici che ovviamente i bramini mi candavano dire ai naviganti e ai marinai ora nei templi indiani cosa si offre alle statue a parte l'incenso che veniva usato dai bramini in casi speciali e per un motivo che sarebbe lungo dire si dava il burro il burro chiarificato che si chiama Ghi che può essere di valore altissimo perché c'è del burro che si riesce a conservare 400 anni e più secoli ha più buono è e più saponito è paga e più caro è si dava il burro essendo l'India più calda che ne so dall'aprica e il burro si scioglie però gli indiani amano gli animali gli insetti nessuno quando un indiano cammina sta tentando schiacciare una formica quindi arrivavano le mosche e i topi che si mangiavano questo e quindi i templi indiani brudicavano di mosche e di e di topi soprattutto di mosche e quindi era il re delle mosche questa è la mia interpretazione va bene lì perché ci va il signor Mosè ci va perché diceva un santuario se voi andate a Rasmo Kamado come sono stato io si vede chiaramente il posto sopra il quale doveva essere un santuario che poi è stato devastato dall'onda di ritorno o da qualcuno che l'ha buttato giù come aveva fatto va bene dopo vi chiedo vi dico in quale caso la tortura è autorizzata da un grande santo in questo santuario c'era dice il Talmud un terzo dell'oro che l'Egitto aveva risparmiato grazie a Giuseppe e poi c'erano tutte le altre offerte eccetera eccetera c'era tanto oro e io penso che Mosè se lo prende dicendo che Giuseppe era un ebreo quindi faccio bene a prenderlo non è sbagliato e però gli serviva quell'oro per un motivo che fra un po' vedrò lui prende l'oro il faraone lo sa immediatamente o tenete conto che i popoli antichi avevano un sistema di comunicazione di cui si parla poco e che permetteva al faraone in non più di tre giorni di sapere cos'era successo ed erano i piccioni viaggiatori che si trovavano presso tutti i tempi anzi bisogna ragione che può fare 300 km a volte anche 600 km in Grecia c'era appena di morte per chiunque danneggiasse uccidesse un piccione viaggiatore quindi i re i grandi sacerdoti e gli altri erano informati prima di quanto lo siamo noi con la posta rapida eccetera che a volte arriva dopo un mese con questi piccioni viaggiatori quindi lui lo sa sale su delle navi e insegue con le navi gli egizi di Giuseppe il quale nel frattempo è arrivato alla pianura di Nuweiba costeggiando la costa o diceva ho dimenticato di dirlo che cosa viene detto sull'itinerario Giuseppe Flavio dice che era inusuale lungo e difficile quindi non poteva essere lungo la costa e invece è molto più interessante quello che dice Cosma Indico Pleuste perché è un'informazione di tipo topologico matematico lui camminò avendo il mare alla destra e la deserta alla sinistra e quindi chiaramente camminò lungo la costa andando da nord a sud eccetera è una questione topologica bene quando Mosè arriva alla pianura questa è la pianura di Nueba che deve essere il Pihairot biblico ovvero il luogo delle canalizzazioni che cosa è canalizzato vedete che escono degli wadi questo centrale è il wadi wazir che io ho percorso tutto in via eccezionale grazie al fatto di essere con il figlio del senatore capo dei beduini per 20 chilometri entreranno in questo bellissimo wadi va bene deve avere anche un certo significato adesso mi sfugge entrò in questo luogo piano dove il faraone poteva usare i suoi carri il faraone arriva con le sue le scariche lungo i canali fatti lungo il percorso degli wadi però c'è Fetonte nel cielo c'è questo oggetto che a un certo momento si disintegra scende il buio e poi esplode dopo poche ore nel cuore della notte arriva il vento caldo il testo biblico sia 70 che il masoretico parlano di vento caldo il masoretico dice che veniva da est l'altro che veniva da nord in realtà veniva da sud perché quando un vento è caldo in zona si diceva si sapeva che veniva da sud il vento soffia e abbassa di qualche metro le acque del Mar Rosso quello che serviva a Mosè perché Mosè in fondo alla valle qui non è segnata riprende una costa rocciosa picco che io ho visto su cui la strada era scavata e probabilmente i terremoti che c'erano stati con l'esplosione di lampo eccetera eccetera avevano rovinato questa strada però abbassandosi il livello del mare dato che il mare è poco profondo perché questa struttura sabbiosa continua per vari chilometri lui semplicemente si è trovato il fondo del mare scoperto e ha camminato quelle poche centinaia di metri o un chilometro e l'hanno portato al di là del punto bloccato alla mattina il faraone cerca di fare la stessa cosa ma il vento è cessato e torna l'acqua di ritorno questa è la storia e qui potrei dire anche altre due cosette perché il mare è diviso era notte e come diceva Michele l'esplosione un'esplosione tugusca illumina il cielo quindi si vedeva abbastanza e lui vedeva il mare per qualche chilometro e qui c'è una specie di ponte sotterraneo che prosegue tra alcuni chilometri proprio pelo d'acqua che il risultato è scoperto quindi ha visto il mare diviso in due certamente non può essere avere camminato fra due pareti di acqua che è incomprensibile Talmud dice anche che c'erano a seconda delle tribù ciascuna camminava dalla sua parte eccetera eccetera ma secondo Biglino il testo semplicemente dice che l'acqua costituì una protezione e alcuni anni fa furono trovati in quel mare sul fondo di quel mare nelle salve dei coralli alcuni con la forma di ruote in un libro che ho letto qualche mese fa sta scritto che l'ultima spedizione del Karolinskaya guidata da un biologo che ha scritto un libro che non ho ancora letto ha trovato anche una cosa straordinaria come erano le ruote dei carri dei faroni lo sappiamo da la tromba di tutta il cane di legno ricoperto di oro quando dovevano muoversi li ricoprivano di cuoio quindi il carro del faraone aveva questa copertura di oro che poteva andare avanti per qualche chilometro il legno e l'oro sono scomparsi e io ho visto una foto almeno il libro dice c'è che è stato fotografato un carro di oro dovrei leggere questo libro di un certo questo è più o meno il fiume Eilershlai vedete va bene qui posso anche dire qualche cosa sull'evento tifone la cui datazione ho scritto queste cose qualche mese fa adesso ho qualche risultato nuovo e diciamo che dal punto di vista cronologico si tratta un po' perché noi sappiamo che Giove aveva 60 anni quando capitò i suoi a trovarsi in questi eventi speciali in cui lui subì una malattia lunga perse tutto i suoi dei suoi animali che erano migliaia di cammelli di buoi di pecore di asine fosse per il latte il latte di asina fosse allora si faceva il bagno nel latte Michele i faroni facevano il bagno nel latte o soltanto poppea no solo poppea solo poppea allora lui perse gli animali che erano tanti io anche il sospetto che non fosse facesse soltanto l'elevamento di animali qualcuno aveva anche i cammelli qualcuno lo poteva portare anche in Egitto perché prima di essere in Palestina dove pare che fosse la città di Giaffa si chiamava Gioppe prima e c'è tutta una serie di indicazioni che lui probabilmente al momento dell'evento si trovava sul monte Tabor dove aveva passato alcuni anni così in una caverna in un pozzo di qua di là e ne uscì quando la famiglia fu distrutta ma prima di essere lì lui che era nel paese di Uz tradotto anche come Gus del basoletico e naturalmente un turco era il paese di Gutz Gutz è il nome generale che i turchi hanno per se stessi le loro 12 tribù e questo nome lo ritrovate anche sotto l'Africa dove c'è il paese dove nacque Golgi Corteno Golgi perché una volta io mi fermavo in un albergo Corteno Golgi e chiesi cosa c'è di speciale ah sei fortunato una volta al mese facciamo il piatto dei nostri avi che è carne di pecora cotta senza acqua senza nulla tutta la notte in una pentola e si chiama Gutz è un piatto turco un piatto di pastori sappiamo dall'esempio del libro della tredicesima tribù che quando Gengis Kanna avanzò verso la Russia e occupò tutta la Russia e se non fosse morto Gengis Kanna il suo generale sarebbe arrivato in Italia eccetera eccetera perché nessuno li fermava i mongoli i turchi fuggirono chi potè e andarono sulle Alpi perché i mongoli non amavano le montagne non amavano i boschi amavano le steppe le zone di pianura andarono sulle montagne dove fondavano in Carinzia 200 villaggi evidentemente qualcuno si è spinto fino alle Alpi centrali questo piatto è un ricordo di quel evento quindi lui doveva essere un turco ma a Bukhara c'è una fontana di Giobbe e questo fa pensare che lui fosse un turco della regione avanzata di Bukhara San Marcante eccetera eccetera che era anche sulla via della seta quindi lui probabilmente era anche un commerciante non lo sappiamo soltanto un elevatore un commerciante che si adò in Palestina forse fu anche per esportare prodotti che venivano dalla Cina non lo so quando è che arriva la prima seta in Egitto lo sai la prima seta in Egitto arriva nel mille intorno al 1100 avanti Cristo però Tutmosi III nel 1500 aveva fatto campagne sulla via della seta in Siria e aveva portato il vetro che era tipico prodotto artigianale cinese e lo portò in Egitto comunque testimonianze archeologiche della seta che abbiamo in una tomba della moglie di un operaio di Deirel Medina che risale intorno al 1100 avanti Cristo intorno alla ventunesima ventiduesima dinastia io non so esattamente quando vedi cioè come testimonianza archeologica c'è quello però aspetta attenzione era seta idrolizzata quindi è sicuramente seta cinese perché sono stati trovati resti di una cuffia di seta sui capelli di quella donna e la seta cioè tu sai che è organica e quindi dopo un tot di anni sparisce si consuma come i sacchetti biodegradabili che fanno oggi quelli col mais quindi hanno trovato molecole di seta idrolizzata tra i capelli di questa donna e la seta idrolizzata era solo di origine cinese perché veniva coltivata se non era coltivata in Egitto quindi c'era della seta che veniva dal Libano ma non era idrolizzata era una seta bastarda diciamo mentre la seta lavorata idrolizzata quindi era solo quella cinese quindi era una cuffia per capelli solo di origine cinese dalle sali interessante beh certo che se c'era nel 1100 magari c'era il Centone e poi non ma ne sono ancora trovata come documento archeologico c'è questo non possiamo dire altro chiusurrei poterti fare un salto in Egitto e fare un giro per le tombe eh sì ecco se ne è già state controllate tutto quello che la vocalizzazione ha detto in Masoretto originalmente era una lingua consonantica così come la lingua geroglifica ora nella lingua geroglifica c'è una parola identica che è vocalizzata però le consonanti sono uguali pekart pekart in Egizio vuol dire recinzione di un invaso piachirot è la trasposizione in ebraico della parola geroglifica pekart che vuol dire invaso che vuol dire cioè io ho fatto una conferenza che è un best seller a Parma che è 12.000 visualizzazioni su internet ma è più raggiunta con altri con altri youtube ma lì io spiego questa storia cioè dell'origine geroglifica di questa parola che non è ebraica e non ha una traduzione infatti nessun dizionario ebraico la traduce perché non ha un significato in lingua ebraica ha un significato in lingua geroglifica che vuol dire diga cioè la diga del lago questa è un'altra storia comunque l'origine della parola è quella allora è mia ipotesi che il Milud biblico che è un discendente di Semmer che poi viene ucciso da una freccia di Esau era un grande cacciatore che poi divenne un grande re costruì Babilonia eccetera ed è un grande impero sia il Nino di Diodoro perché Diodoro quando parla di Nino di Semiramide che costruiscono una Babilonia e una Nimide che ha dimensioni doppie a quelle che poi ritroviamo si riferisce a un tempo antecedente e dice infatti che era vissuto 1300 anni prima di Sardanapalo che è a Surbanipal andiamo verso il 2000 e sarebbe Sargon il grande perché Sargon non è un nome proprio è un titolo come imperatore come Cesare come che ne so e vorrebbe dire il Sar il Signore che non può essere buttato in lui bene lui il suo impero andava praticamente dal Mediterraneo dal Libano sino all'India però non occupava non aveva occupato l'Egitto sicuramente lui sarà stato in viaggio in Egitto a vedere le piramidi ed un uomo estremamente orgoglioso che era avrà pensato di farsene una più alta quanto? la Bibbia non lo dice però è probabile che sarebbero stati 360 cubiti perché 360 è un tipico numero della Mesopotamia il cubito reale è solo 52 cm qualcosa veniva 30 metri più della piramide cosiddetta di Cheope e la base stando al Talmud era di 3 miglia quindi una piramide che saliva abbastanza gradualmente non facile da costruire perché a Babilonia non c'è solo pietre quindi doveva portarsi dalle montagne bene viene anche scritto che c'erano 700.000 lavoratori che mi pare sia esattamente la stessa cifra che fu usata da Qin Shi Huang per costruire la grande muraglia no ma anche il mausoleo quello dove c'è la fossa con i famosi guerrieri di terracotta e anche lì 700.000 lavoratori mentre adesso sono solo 5.000 quelli che lavorano alla fiera di Milano però lavorano giorno e notte ciascuno con efficienza pari a 100 lavoratori per questo erano 100.000 schiavi che dovevano lavorare sono di frusta eccetera eccetera c'era una disciplina sapete che un soldato romano vi dice tacito che violasse la disciplina era condannato a morte a colpi di frusta tanto è frustato finché moriva questo era all'epoca dei primi imperatori mentre all'epoca repubblicana la morte era più semplice era la sola decapitazione che non è la disciplina che si occupa si applica oggi comunque erano ovviamente tutti i prigionieri eccetera sapete quant'era il numero di schiavi a Roma? normalmente i ricchi avevano da 10.000 a 50.000 schiavi c'è una ricca romana che si fa suora all'epoca dei frati della Tebai dell'epoca di Sant'Antonio e cosa fa? libera 8.000 dei suoi schiavi e dà agli altri i suoi parenti bene ora cosa può essere successo per spiegare l'evento? può essere successo che questo oggetto tifone passi sulla torre ad un'altezza tale da interagire con l'atmosfera allora avete un'onda di pressione che scende sul basso e colpisce danneggia l'udito danneggia i timpani dei lavoratori il suono molto forte danneggia le cellule ciliari un suono che supri un certo livello di decibel e distrugge le cellule ciliari conseguenze si sono trovati sordi e quindi non capivano più gli ordini non perché avessero cambiato di lingua e che è solo spiegato con un miracolo ma in questo modo e gli altri probabilmente se ne stavano al riparo perché avranno sentito che arrivava qualche cosa e 700.000 lavoratori dove andavano non era previsto un riparo per loro quindi secondo te la torre di babele effettiva la torre di babele poi fra i terremoti eccetera e poi è andata giù in passati 4.000 anni questo era Sargon quindi esisteva secondo me esistiva l'hanno costruita eccetera l'hanno costruita però poi le persone sono andate tutti sordi ma dovrì parlarsi non sono riusciti a finirla vediamo qua mi fermo per oggi l'hanno costruita l'hanno costruita l'hanno costruita l'hanno costruita